Si è spento a Rieti, dopo una breve malattia, Monsignor Lorenzo Chiarinelli, vescovo emerito di Viterbo. Nato a Pratoianni nel 1935, Monsignor Chiarinelli è stato viceassistente ecclesiastico centrale della FUCI e un insegnante tra i più stimati del liceo classico Varrone. Prima della sede episcopale di Viterbo è stato vescovo della diocesi di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo dal 1983 al 1993. La diocesi, che lo ha avuto per dieci anni come pastore, esprime il proprio cordoglio manifestando nella preghiera la sua vicinanza ai familiari e rinnovando l'invito alla preghiera. Parole di cordoglio per questa grave perdita sono state espresse anche dal sindaco di Sora, Roberto De Donatis. La scomparsa del vescovo emerito Chiarinelli ha addolorato la nostra comunità. Il decennale percorso del vescovo Lorenzo nella nostra diocesi ha lasciato un segno indelebile contribuendo a rinnovare lo spirito cristiano della comunità nel solco di un confronto vivificante e costruttivo con le parrocchie, le realtà associative e le istituzioni. Abbiamo avuto la fortuna di avere un pastore dalle straordinarie doti umane, spirituali e culturali. Monsignor Chiarinelli non ha mai dimenticato la città di Sora, alla quale era legato e nella quale tornava sempre con piacere. Oggi i Sorani, conclude il primo cittadino, lo ricordano con grande affetto e gratitudine, ringraziandolo per l'esempio di fedeltà al Vangelo e per la grande umiltà che ha saputo trasmetterci con la sua innata ed intensa capacità comunicativa. I funerali di Monsignor Chiarinelli si terranno mercoledì mattina a Rieti, in piazza Cesare Battisti. Dopo la cerimonia funebre, la salma sarà trasferita a Viterbo per la sepoltura. Con il vescovo Lorenzo, ha dichiarato Monsignor Domenico Pompili, scompare un uomo perspicace, interprete raffinato della modernità e soprattutto un credente irriducibile. La sua scomparsa è dolorosa non solo per la Chiesa, ma anche per la società civile.